Quando si parla di lezioni in pochi ne possono dare a livello italiano come Paolo Andreucci e Anna Andreussi, pluri vincitori del campionato italiano Rally. Sentiamo adesso che segreti vanno a svelare ai piloti impegnati nel Peugeot Competition. Qual è il problema? Che andando avanti nella fase di curva quando poi io devo arrivare a chiudere di più il grip, la gomma dura cosa mi fa? Mi fa questo lavoro qui di tenuta di strada, di grip. A volte hai delle parole troppo lunghe per cui soprattutto se poi fai il salto di categoria ti troverai, scorri molto, cioè hai delle note che devi cercare di ridurre. Per cui queste differenze lì le sentite, cioè entrate nella dimensione di capire il pneumatico in maniera totale. Undici campionati italiani Rally non si vincono certo per caso. Alla base c'è un indubbio lavoro scientifico di preparazione atletica e anche alimentare. E la passione che trasmette Paolo Andreucci, anche senza un volante in mano, è evidente nei consigli che offre ai ragazzi del Peugeot Competition. Un pilota moderno è per prima cosa, un serio professionista analitico capace di scegliere al meglio tra le opzioni che si parano davanti a lui. Dalla scelta delle gomme, davvero ardua quando le condizioni meteo sono mutevoli in 30 km di prova speciale, fino agli assetti e dal modo in cui vengono lette le note, nulla deve essere lasciato al caso. Ma adesso silenzio in sala, ecco qualche consiglio di Paolo. Centro un po' centro strada, questa andava bene, qui un po' dentro e qua chiudi un po' e qui non fai, non passi all'esterno ma rinchiare. Cioè il fatto comunque di sfruttare di più tutta la strada. Come dicevo quei 20 cm si possono sfruttare di più, poca roba, non è tanto. Però puoi comunque arrotondare un po' meglio le traiettorie.